Cibo, prodotti di prima necessità per infanzia e non solo, per tutti i più bisognosi della comunità italiana, in particolar modo di Napoli, che, durante l'emergenza Covid-19, hanno subito più di tutti il peso di una crisi inestimabile. Donazioni fatte col cuore, dal cuore pulsante del GFC Naples International Club, guidato e supportato dai membri civili e militari di ogni nazione della Nato e dell'MWI. L'ammiraio James Fogo ha sancito il via alla consegna. Tramite padre Roberto di Giuseppe della Cappella del GFC, le donazioni sono state raccolte e mandate alla mensa dei poveri di Napoli, associata alla chiesa Santa Maria del Carmine. Inoltre, 20 scatole sono state consegnate alla parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria, parrocchia San Luca Evangelista e parrocchia Santuario Maria Santissima delle Grazie. Inoltre, facendo questa domanda, ci sentiamo che stavamo collegare la nostra comunità con una comunità italiana locale, facendo qualcosa per aiutare in questo momento di necessità. Abbiamo chiesto di fare qualcosa per i primi 4 mesi di isolazione, ma non conoscevamo cosa fare, eravamo tutti isolati nella nostra casa. Quindi, nel 4 settembre, stavamo inoltre, a questo punto, abbiamo pensato che noi stavamo a food drive. La Cappella dell'International Club tratta di incorporare carità in ogni eventi che facendo, per promuovere locali italiani caratteristiche, e per dimostrare la nostra comunità che possono fare qualcosa di più di più di più di più di noi. La Cappella della Cappella dell'International Spousi Club, la food drive, è anche importante aiutare i membri della Cappella dell'International Club, per il fatto che siamo una grande comunità e portiamo tutti insieme. Quindi, funzionavamo in tre fasi, l'inizio, ovviamente, era la collezione di caratteristiche, poi ci siamo passati a contare tutti gli itemi, abbiamo pacchettato tutto e ora siamo sette per la vendita nella comunità. E' valutante e molto bene valuta per i nostri amici italiani. Un gesto lodevole e di grandissima importanza, come ha affermato entusiasta Padre Roberto. Vivissima, inoltre, la partecipazione di tutti i membri del GFC Naples International Club. La Cappella della Cappella ha fatto che tutti, all'interno del mondo, guardare le cose un po' un po' differente. E so che ero molto orgogliosa di essere coinvolta in questo food drive. E penso che il messaggio è che fare qualcosa di buono per altri è buono per tutti. e mi fa sentire bene. E sono molto, molto piaci che Nisa ha studiato e fatto questo. E non credo che sia finito. E' dovrebbe continuare, e mi sicuro che sarà. La Cappella ha fatto un po' 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 che vive più fortuna. In la nostra comunità, perchè non possiamo fare questo, è stato fantastico che l'International Sviles City Club come forward with the idea of doing it for the Italian people because there are people at home doing it for our countrymen and we now want to pass it on forward and give it to the country of Naples and Italy and do whatever we can to help them. Well I got involved because I think mostly from a feeling of helplessness really we exist here in NATO and we're slightly separated from the community so it's hard to know what life is really like outside but we saw a lot on the press and the media and it moves you to do something I'm just grateful for the opportunity really to actually do something which is quite easy for us to do and we'd like to do more of it so it was rewarding in that because I've been to Naples before 13 years ago we were here and whilst there have been many changes there's still problems in society for folks who seem to be underneath the radar if you like and it's very difficult for them to make a living and now it must be almost impossible so yes it's very rewarding and hopefully we continue to do that. Due to the overwhelming success of this initial food drive and with the minimum manning that was happening throughout the base we're actually looking forward to possibly doing another drive with even a larger outcome and much more successes to ensure that we help out the communities that we all now call home. To give you one message from our community here at JFC NATO is know that we care about you.